Grazie a tutti Chi è che lo chiama? E chi fa l'aiuto? Lo scavalcamento delle barriere e l'invasione di campo, prima, durante e dopo la partita, possono comportare la sospensione della stessa, con conseguente sconfitta per tutti. Con il numero 33 Hans Hattenberg, con il numero 4 Ryan Cristante, con il numero 11 Davo Freire, con il numero 37 Leonardo Spinezzola, con il numero 27 Yasmin Kutinz, con il numero 9 Andrea Scognazzi, con il numero 10 Alejandro Giove. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione